Benvenuti a questa caccia a marmillo di zolli da lonza e l'unno, vi aspettiamo soprattutto per tutte le prove che dovrete portare a termine, ad esempio far scoppiare dei cuori, cibarsi l'unno migliore di creatore di vanti, chissà chi avrà più coraggio, io fico per i vampiretti, io per i diavoletti e allora vediamo chi avrà il coraggio e la forza e soprattutto il divertimento perché caccia rubino di zolfo alla fine è qualcosa per i bambini, bisogna divertirsi e allora e allora vi aspettiamo? Adesso, alle 16.45, ok, 15.30, spariamo dei numeri a casa, 18.94, alle 23.01, vi aspettiamo, caccia a rubino di zolfo!